Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale. Io sono Anita e come sempre questo è Curiosando Lanzarote. Oggi sono qui per darvi un piccolo aggiornamento da Costa Teghise, ma prima di partire con il video voglio ricordare a tutti che potrete andare nelle impostazioni e mettere i sottotitoli della lingua che preferite. Abbiamo inglese, tedesco, italiano e spagnolo. Come ricordiamo sempre ragazzi, nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, cliccate sul pulsante iscriviti e attivate la campanella in modo da non perdervi nessuno dei nostri video. Io sono pronta per partire, ma prima di iniziare con il video devo lanciare come sempre la nostra sigla! Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.